Alla montagna è spuntata la luna, è una stagione che accomparrà. E se la morte dell'obbrigante alla montagna si aiuta a campare, pulisse a diventare inubbrigante, pulisse a diventare inubbrigante. Capessa sola alla montagna scura, che si fa sempre paura, fino a quando muo. Capessa sola alla montagna scura, che si fa sempre paura, fino a quando muo. Grazie a tutti! E se la morte dell'obbrigante alla montagna scura, che si fa sempre paura, che scopetta volermo cantare. E che scopetta volermo cantare. E che scopetta volermo cantare. Tutta la gente se la camparà, succede forte, turre e burbone, a terra nostra non sa da toccà. E che scopetta volermo cantare. E che scopetta volermo cantare. Questa è un nemico faccia in madre ma, questo è un nemico faccia in madre ma. Che ha visto lupo e sa mi sa paura Non sapevano fare la verità Povero lupo che magna e creatura Dobbiamo un tese che mi fa cacciare Dobbiamo un tese che mi fa cacciare Vimane belle cadate allo cuore Se lo pregante è volita salvare Non lo cercate e scordate Voi nome che ci fa guerra Non tena pietà Che ci fa guerra non tena pietà Vimane belle cadate allo cuore Se lo pregante è volita salvare Non lo cercate e scordate Voi nome che ci fa guerra non tena pietà Che ci fa guerra non tena pietà Come se nasce il pregante e se muore Ma fino all'ultima vimane a sparare Se si morì ma c'è data un cuore Se lo pregante è volita 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 Da un'ezza di chissà di chi ti mi ha Io modri tutti nel tuo Padre nostro Chi mi fissi pure in giù un dine scia Mi dissi ti con ziggi ma ti dugni E di parole non ti li scornare Comporta di nuovo giusti e di chi Bravo figliolo e giuveni dolori Porta rispetto sempre a cui ti volentà E briga di bucura e partitoi Ti metti ti metti la vita e curta Non vaari vaari sii petti e non voi Ricordati da nuovo giusti e di topati Mi dimenti la vita e partitoi Mi dimenti la vita e partitoi Mi dimenti la vita e partitoi E di chi sono e puli i braci Mi dimenti la vita e partitoi E di chi sono e puli i braci Grazie a tutti. Con una chitarra in giro, un mondo un peru, e da Calabria mia porto a Pantera. Grazie a tutti. Lo sai che mi imparavo la mia zitta, lo sai che mi imparavo la mia zitta. Mi lo imparavo a mia alunna cannaca, mi lo imparavo a mia alunna cannaca. All'otto giorni prima mu si marita, all'otto giorni prima mu si marita. Mi promettivo a mia alunna cannaca, mi promettivo a mia alunna cannaca. Tutti mi dino che non mi marito, tutti mi dino che non mi marito. E' un mi marito bello con la nominata, non mi marito che non hai dotta. Hai una caccia di stufa filata, hai una caccia di stufa filata. Tutti mi dino che non hai un mamma, tutti mi dino che non hai un mamma. La vera mamma mia è la madonna, la vera mamma mia è la madonna. Ma chi sta testo mondo non è mamma, ma chi sta testo mondo non è mamma. La voglio amare solo una murusa donna, la voglio amare solo una murusa donna. La voglio amare solo una murusa donna, la voglio amare solo una murusa donna. La voglio amare solo una murusa donna, la voglio amare solo una murusa donna. La voglio amare solo una murusa donna, la voglio amare solo una murusa donna. La voglio amare solo una murusa donna, la voglio amare solo una murusa donna. La voglio amare solo una murusa donna, la voglio amare solo una murusa donna. La voglio amare solo una murusa donna, la voglio amare solo una murusa donna. La voglio amare solo una murusa donna, la voglio amare solo una murusa donna. Grazie a tutti 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 Amore 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 avere marro quale testimone e divulgatore. Un affettuoso saluto, in rappresentanza siamo Bruno Giorpida, Francesco Angilletta e Lullo Pasquale. Grazie, grazie. Siamo un gruppo di persone che hanno deciso di passare la domenica in maniera, tra virgolette, identitaria, al di là delle sigle e al di là di tutte le altre cose. Inrevo a parerciare questa faccenda perché non amo mettere i cappelli su situazioni storiche, la storia è di tutti noi, chi cerca di portarlo avanti non muore, chi non ha altro, però desigla in certe situazioni il consiglio. Io vi ringrazio, sono profondamente contento di venire qua, è la terza volta che ho festo questo suo che per me è sacro. Spero davvero di poter iniziare da questo giorno quel progetto che da sempre porto dentro, fare di conciana la ripresa delle due sigle di quello che è più il sud, perché purtroppo in questi 15 anni, 20 anni di riscoperta identitaria non abbiamo fatto altro che conmemorare dove l'abbiamo presa, a Gaeta, a Messina, a Civitella, a Capola. Penso invece che un posto dove c'era la positività del nuovo delle due sigle come questo possa risultare per davvero il punto di ripartenza della nostra gente. al di là delle sigle e dei monarchismi, attenzione perché io ci tengo tanto a dire questo, dobbiamo ricostruirci come popolo, noi siamo l'unico popolo europeo sparito dalle cartine geografici, l'unico, anche nell'ex Jugoslavia, nelle zone della Russia, si è ritornati ad essere padroni a casa propria, è quello che dobbiamo fare anche noi. Poi, che si rimanga in Italia, no no, per me poco importa, io voglio solamente che noi ci riprendiamo ciò che ci è stato tolto e che anche noi abbiamo concesso di fare, diciamocelo chiaramente, noi puntiamo sempre il dito contro chi è venuto, c'è in base, c'è tolto, ma noi abbiamo consentito tutto. Perciò questo sia il punto di ripartenza di noi e di quelli che verranno da vedere. E grazie, grazie ancora a tutti. Allora, non prego che era una lunga, è scusa, beh, no, è un po' più bello, 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 piano terra e piano piano, non esistono casse duali, le casse duali sono tante, non sono tante, non sono tante, mentre gli palazzi più importanti sono, il palazzo principale che è quello, poi c'è il palazzo monabito che era il palazzo degli amministratori di queste fabbriche e poi c'è il palazzo, più tardi che questo seguito della generazione del contesto, del 2021, del 2018, ci inseriava all'interno di un piano, perché come sapete non c'è una altre parti della università tecnologica qui, come produzione, e si appoggiarono il pinto, posso dire, tutte le numerze che partivano da un piano. forse non ci riusciremo la seconda fase della produzione la produzione all'interno di queste nuove le prodotti che arrivavano dal giro una cosa che mi voglio far vedere allora nessuno va bene che sei rasta che piazza macchina d'osola non devo riuscire a calmarare la mano davanti là c'è l'errero e c'è l'ho come un belè allora non hanno mai capito i cattuccini non hanno mai capito i cattuccini col busta i cattuccini col busta Alpeto saluto me a Enzo per favore Enzo Tortorella dici chi stiamo mangiando per favore salame ciao Enzo sei con noi spiritualmente esagerato io ci dico ciao poco mio ma tu non stai mangiando niente ma vi state mangiando tutto voi aspetta Marco che stai combinando bravissima Angela Pino Giovanni allora com'è tutto bene i papi penso che sono buoni si vediamo l'altro tavolo guarda 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 aspetta Enzo che sto arrivando qua nella zona dei boss questa qua è Maria questo è Fiore quello è Franco guarda guarda ti faccio abbiamo visto la riduzione Pino Spinelli Pino Perri ecco qua salutami a Tortorella per favore i poverini che non mangia con noi no Enzo mi dispiaggia è vicino è vicino però poverini facciamo come si dice la notizia di Tortorella Tortorella di 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 Tortorella allora tutto bene tutto bene mi pare che lui non sta chiamando su Dio perché che non mangiava niente ancora ma semplicemente tu mangio io e ora mi muovo è vero Raffaella Franco allora tu tutto bene ok mi ha mangiato quindi vedi che io stanno suonando che già cacciare i zampogni in giro se volete ascoltarli chi sono i nostri come si chiamano? lisa russa e rota luna ah si e solo li reggono ok va bene eh si si bene 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 non puoi che volentengono non puoi che pepe nero non puoi che pepe nero non puoi che pepe nero salo lì caccii così dai non basta la cultura di aggiornata chiaro sono scarparlo capiscissimo non puoi che pepe nero non puoi che pepe nero non puoi che pepe nero che pepe nero Bravissimi Sì, l'inizio! Vai! Sì, l'inizio ciò che ha aiutato un po', la conosci anche la ragazza, non si... Si, 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 si... Mi sapevo, ma che gliel'hai fatto? perché il servizio a domicilio non è facile vedi che siamo cani a musica noi io e Giovanni all'ultimo all'ultimo tavolo vieni qua che è bellissimo vieni qua che è bellissimo un attimino vieni e sono i figlioli che suonano mica ci lo posso dire stiamo vieni qua un minuto Walter che dobbiamo fare il brigante se muore prima il nome personale brigante se muore un mazzo un dinino è una cosa ma l'ultimo movimento di tutti i briganti tutti noi tutti i briganti e brigantesse prima i brigantesse e dopo noi guarda i bandieri guarda i bandieri come va ti vedi i bandieri ancora come stanno è un momento non ho mai visto i briganti guarda è vero o no? è vero è vero è vero ah sì iniziano a aver paura iniziano a cremare iniziano a cremare che il brigante sta per ritornare allora sta tornando che siamo arrivati Chiamato il Santo te lo toh è lì leke è lì faccio di briganti dopo è no e sì è però si spu sì so sì sì po si he va la �� no io chiederò Grazie a tutti